Deathloop è il nuovo sparatutto in prima persona di Arkane Studios. Un team apprezzato per i suoi progetti sempre interessanti, come Dishonored Prey, e che torna a far parlare di sé con questa sorta di rivisitazione del giorno della marmotta. Il concetto alla base di Deathloop ha infatti proprio il ciclo temporale, ovvero un ricorso della storia che ripete costantemente i medesimi eventi al quale il giocatore deve cercare di sfuggire. Al centro c'è lo scontro fra due assassini all'interno della fascinante ed enigmatica isola di Blackreef, incastrata in un loop temporale dove le cose si ripropongono all'infinito in uno stesso giorno che si ripresenta sempre uguale. Il ciclo è strettamente legato alla guerra tra Colt e Julianna. Colt, che può essere considerato il protagonista principale, ha intenzione di fuggire dalla dannazione della medesima giornata eterna, ma per farlo deve raccogliere informazioni ed eliminare otto persone prima del calare del sole. Tuttavia viene ostacolato da Julianna, che invece vuole preservare lo status quo di Blackreef ed è disposta a tutto per eliminare a sua volta la minaccia costituita da Colt, uccidendolo e facendo dunque ripartire il ciclo. Ogni mattina Colt si risveglia su una spiaggia con un vago ricordo delle violenze inflitte e subite in quella che dovrebbe essere la giornata precedente, ma che si appresta a ripetersi allo stesso modo, a meno che non si riesca a modificarne gli eventi. La ripetizione costante delle giornate consente di capire progressivamente quali siano le strategie migliori per eseguire le eliminazioni e raccogliere sempre più informazioni e segreti. Il ciclo degli eventi si ripropone uguale a grandi linee, ma consente approcci e strade ogni volta diverse, scoprendo qualcosa di più su Blackreef e sulla condanna del protagonista alla giornata eterna. Si impara e ci si adatta, si risolvono nuovi enigmi sparsi in giro per l'isola e in qualche modo si progredisce in maniera costante, con Colt che aumenta le sue capacità ottenendo anche abilità sovrannaturali. In tutto questo si innesta il multiplayer che viene assorbito in maniera organica dalla struttura di base del gioco. Il secondo giocatore può interpretare il ruolo di Julianna e vivere la giornata dalla prospettiva opposta a quella di Colt, con l'obiettivo di eliminare il protagonista per mantenere stabile la continua ripetizione degli eventi. Questo è un elemento opzionale e di base Julianna viene controllata dall'intelligenza artificiale, ma rappresenta anche un bel modo di variare l'esperienza e consentire di esplorare Black Reef da una prospettiva completamente diversa. Deathloop propone meccaniche da sparatutto in soggettiva fortemente modificate e personalizzate, in grado di offrire un'ampia libertà di scelta su come affrontare le varie missioni. Proprio come in Prey e Dishonored, il gameplay è quindi più complesso e ricco di quanto siamo abituati a vedere nel genere. È vero che Deathloop nello specifico offre un tipo di azione più immediato, ma ci sono una serie di sfaccettature in stile stealth e adventure. È infatti necessario esplorare a fondo lo strano e affascinante scenario di Black Reef, perché la raccolta di informazioni è un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi, mentre l'approccio all'eliminazione dipende anche dalle preferenze del giocatore. L'ambientazione pare caratterizzata da un'atmosfera sospesa tra una fantascienza moderna e scenari che richiamano invece i vasti del cinema anni 60 e 70, in un continuo contrasto tra sogno e incubo, lusso e violenza. Gli sviluppatori parlano di gioco progettato per la next gen, in particolare per PS5. Al di là della cura riposta nello stile grafico, non si rilevano però elementi che facciano pensare a un titolo impossibile da proporre sulle altre piattaforme, al di là di scelte effettuate su risoluzione e framerate, con il gioco che dovrebbe presentarsi su PS5 in 4K e 60 fotogrammi al secondo. Spicca comunque il supporto per le caratteristiche del DualSense, in particolare il feedback aptico e i grilletti adattivi. Deathloop sembra un'altra interessante interpretazione dell'action game in soggettiva targato arcane. L'idea del loop temporale è molto attraente, così come la caratterizzazione di ambientazione e personaggi. Resta da valutare il gameplay vero e proprio, ma quanto visto finora fa ben sperare per un titolo forse un po' di nicchia, ma dà il notevole valore. Deathloop arriverà su PC e PS5 in corrispondenza con l'uscita delle console next gen. Cosa ne pensate del progetto? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro.